Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi, vorrei parlare della crisi del mio governo che ho fondato. Specialmente i problemi succedono quando a casa ci sono delle compere da fare o anche da mangiare solamente, le complicanze delle cose perché uno vuole una cosa e l'altro ne vuole un'altra, uno cede e l'altro no e così c'è sempre da fare delle parole. Un accordo non si riesce a trovarlo in due perciò diventa molto difficile continuare a governare questa casa che diventa un gran casino. Io sono stufo di tutto e vorrei tanto, non so, andare in qualche posto lontano su un'isola deserta. Almeno lì chi comanda sono io e tutto va bene. Quello che ho voglia di mangiare, quello che riesco a mangiare, mangio e nessun problema. Staremo a vedere un po'. Vi saluto e arrivederci a presto. Grazie.